Grazie a tutti. Ciao a tutti, mi conoscete, sono Marco Boni, alcuno può dirlo, per gli amici Spugna, ma noi andiamo in giro, ho ricevuto da poco il commissariamento della provincia del Canaverese, sono anch'io un neoeletto come l'altro Marco, mio quasi omonimo. No, complimenti alla provincia di Cuneo, veramente tanti complimenti, ho avuto modo di conoscere bene Alberto, di parlare molto con Flavio, anche con Pippo. C'è solo da imparare, avete creato un bellissimo gruppo, avete una voglia indifferente e per quanto riguarda la parola d'ordine reclutamento, reclutamento e reclutamento avete perfettamente ragione. Sto cercando di applicare anch'io nella mia provincia questo stile di fare politica nel mondo giovanile, è difficile, c'è una disaffezione alla politica non indifferente, ovviamente durante il gazebo per la raccolta firme, tantissime persone più o meno conoscenti, che gli dici guarda, è per abolire lì, è per avere più risorse, e questo, ah io non firmo più niente, non mi fido più di niente di nessuno, io con la politica ho chiuso, è un periodaccio, però con l'entusiasmo che vedo qua durante questo congresso, che vedo in voi, secondo me possiamo andare lontano, ancora complimenti quasi fatti perché non si sa mai, come diceva anche Davide, non si è ancora stato detto, Fabio, buon lavoro, ti auguro tante buone cose e ancora complimenti alla provincia di Cuneo perché si vede che chi lavora, chi ha voglia, ottiene risultati, bravi! Grazie!